Cos'è la meditazione profonda? La meditazione profonda può essere raggiunta attraverso una concentrazione silenziosa nel tentativo di alleviare la tensione e acquisire la capacità di concentrarsi e aumentare la vigilanza. Questa tecnica è considerata la forma più intensa di meditazione. In questa pratica, alcune tecniche di rilassamento vengono eseguite con l'uso di musica risonante. Come una persona pratica la tecnica, l'obiettivo è quello di raggiungere uno stato riparatore di corpo e mente. Per questo motivo, la meditazione profonda viene a volte definita meditazione profonda. Molte persone affermano che uno dei benefici della meditazione profonda è una sensazione di rinnovate energie e ringiovanimento. Alcuni eseguono questo tipo di meditazione dopo un'esperienza stressante o dopo una lunga e dura giornata di lavoro. Mentre tutte le forme di meditazione sono considerate tecnicamente corpo, la meditazione profonda è pensata per migliorare la consapevolezza, ridurre l'ansia e calmare i sensi nel più breve tempo possibile. Alcune forme di meditazione richiedono diverse sessioni di allenamento di un'ora o più. Secondo gli esperti di meditazione, una tipica sessione di meditazione profonda può apportare risultati positivi in 30 minuti o meno. Oltre a migliorare il proprio stato mentale ed emotivo, alcuni esperti ritengono che anche la meditazione profonda abbia benefici medici. Ridurre l'ipertensione in alcuni pazienti può essere uno dei vantaggi della meditazione, sebbene questo sia speculativo. Sebbene la meditazione profonda non sia intesa a sostituire i mezzi convenzionali di trattamento medico, può promuovere un sano stato di rilassamento. Ci sono vari modi di praticare la meditazione profonda. Alcuni individui preferiscono usare miglioramenti e aiuti mentre fanno meditazione, come incenso, candele e oli essenziali. Un generatore di rumore ambientale, come una macchina del suono, può anche essere usato durante la meditazione. I generatori di rumore possono simulare il suono di una cascata o un temporale per migliorare la concentrazione e bloccare altri suoni disturbanti nell'ambiente. Quando si pratica la meditazione profonda, un praticante è incoraggiato a forzare volontariamente la mente a chiudere, pur mantenendo un senso di consapevolezza. Arrestando il processo del pensiero, la preoccupazione o la distrazione non sono un problema. La mente iperattiva si calma mentre la persona mantiene la sua cognizione. Dopo che tutti i pensieri coscienti sono stati cancellati, l'individuo può recitare un mantra. Un mantra o un tipo di canto, tipicamente sotto forma di una parola o frase che può essere ripetuta più volte in successione. Molte persone che praticano questa profonda forma di meditazione considerano un mantra o una forma di preghiera che aiuta la concentrazione.